buongiorno a tutti allora secondo video di call news di che cosa parleremo in questo video parleremo di viaggi in aereo e sicurezza una cosa curiosa che non vi voglio aggiungere diciamo che qualcuno ha pensato a questa cosa qua c'è anche una barzelletta ma non ho tempo di raccontarvela perché anche prima pensavo di fare un video ho detto sono notizie abbastanza veloci non sono lunghe 10 12 minuti faccio il video è durato 20 minuti perché d'altronde io devo aggiungere sempre qualcosina poi parleremo di un miraggio molto particolare che è stato fotografato nel dicembre del 2022 in canada anzi nel canada sud occidentale poi parleremo di james cameron e di terminator 1 perché ci sono delle curiosità perché diciamo che il regista ha voluto fare dei piccoli cambiamenti da quello che era la sceneggiatura eccetera ne parleremo e quindi siamo già alla terza notizia e poi parleremo di una cosa che riguarda napoli mi dico solo quello è l'avvenimento principale che succede a napoli se non erro in settembre si anzi senza se non erro il 19 di settembre e quindi ci sono queste curiosità su questo evento importantissimo penso che sia quello più importante a napoli a parte forse quando arrivò maradona ma non mettiamo non mischiamo il sacro col profano mi arrivò il dio del calcio qua si parla del di qualcosa di più celeste ecco ma partiamo partiamo perché con la prima notizia i più ansiosi infatti di voli potrebbe averci pensato non sarebbe rassicurante avere nella dotazione di sicurezza di ogni passeggero anche un paracadute di emergenza punto di domanda forse se li sapessimo usare e se le centinaia di persone a bordo avessero qualche possibilità di spiegarle ordinatamente mano a mano che escono dal veicolo la realtà dei fatti è che il passeggero medio di un volo commerciale ha molte più chance di sopravvivere rimanendo seduto e adottando le disposizioni di sicurezza già in uso impreparato lanciarsi con il paracadute richiede sangue freddo la preparazione necessaria per mantenere la posizione giusta durante il salto e il volo oltre a diversi minuti di preparazione per indossare correttamente il dispositivo tutte condizioni impraticabili con le accelerazioni i sobbalsi e la velocità di un jet in pericolo dalla panella alla brace il rischio di aprirlo nell'abitacolo con gravi conseguenze sulla stabilità dell'aereo e sull'incollibilità dei passeggeri sarebbe altissimo scusate al bronco di riace che anche lui vuole dire la sua senza contare che le normali uscite di sicurezza dei veniboli di linea non sono adatte a questo tipo di lancio si finirebbe facilmente contro un'ala o contro la coda servirebbe una speciale rampa sul retro della cabina fattore peso i paracaduti sono più pesanti e costosi rischierebbero una costante manutenzione e aggiungerebbero a zavorra ai voli che diverrebbero ancora più cari impossibile o quasi insomma affinché un paracadute personale possa servire a qualcosa bisognerebbe trovarsi in una condizione di lenta avaria in pieno giorno e sopra la terra con tutto il tempo necessario a prepararsi e per di più con un aereo dotato di uscite apposite per i lanci una situazione che difficilmente si potrebbe verificare infatti uno dice ma c'è questo c'è questo c'è quell'altro come mai non c'è un paracadute effettivamente uno pensa che lanciarsi col paracadute c'è lì l'istruttore ti leghi assieme all'istruttore ti buti con l'istruttore ma è l'istruttore che gestisce il paracadute eccetera o se no ti alleni prima dalla rampa come facevano i militari che ho degli amici che hanno fatto i parami facciamo vedere le foto eccetera delle esercitazioni noi eravamo negli anni 90 non c'erano le poi comunque non puoi usare la telecamerina lì ti fanno un mazzo a tarallo comunque dalle immagini che si vedono si allenano lanciandosi poi dalle rampe alte che c'è la fu di una specie di funiculare che ti abitua al salto poi c'è la cosa per saltare giù e come devi cadere a terra con sotto la materasso quello che è quindi devi prepararti non è che tu andiamo su in aereo ci buttiamo giù col paracadute quindi c'è solo da augurarsi che l'aereo non precipiti poi come direbbe pierino non voglio prendere l'aereo non voglio prendere l'aereo ma perché pierino tanto sei destino sì ho capito ma sei destino del pilota che colpa io lasciamo perdere la battuta e andiamo a vedere cos'hanno immortalato in canada immortalato da un appassionato il particolare miraggio ha avuto origine grazie a specifiche condizioni meteorologiche con sbalzi termici tra diversi strati d'aria particolari e specifiche condizioni meteorologiche hanno dato origine ad un fenomeno incredibile e già entrato nella top five dei più sbalorditivi di sempre nel paese stiamo parlando della fata morgana un evento davvero emozionante ed unico nel suo genere si tratta di una forma complessa di miraggio superiore che è possibile osservare in una stretta fascia appena sopra l'orizzonte deve il suo nome alla maga arturiana legata alla metodologia celtica e per formarsi per l'appunto devono coesistere una serie di condizioni climatiche e accaduto questo è accaduto nel canada sud occidentale il 7 dicembre 2022 vicino alla metropoli di calgari dove ci sono state anche le famose olimpiadi nella contea di wheatland nello stato dell'alberta ed è stato ammortalato il superior mirage grazie a una temperatura al suolo di meno 21 gradi in conseguenza dell'effetto albedo e spiegano gli esperti del cuscinetto freddo ai bassi strati il tutto mentre nella zona era in corso un'ondata di caldo con temperatura di circa 5 gradi a circa mille metri di quota in libera atmosfera sbalzi termici importanti tra diversi stati d'aria che hanno permesso al fenomeno di formarsi immortalato da neil zeller in una serie di immagini a dir poco sbalorditive nessuno aveva mai visto una fata morgana di questo tipo tale da lasciare senza parole i cittadini e gli appassionati di eventi di questo tipo del resto gli scatti parlano chiaro si tratta di uno dei miraggi più incredibili di sempre quindi se volete c'è potete inserire magari su youtube o su una cosa di ricerca canada fatta morgana 7 dicembre 2022 e magari ci sono le foto di questo evento molto particolare in cui appunto c'è questo miraggio ma dopo queste due notizie di scienze notizie che ringraziamo come sempre andiamo con james cameron e quindi questa è una notizia di cinematogra punto it e andiamo a curiosare di che cosa parleremo parleremo di terminator di james cameron che è appunto ha fatto determinate cose durante questo film james cameron durante la realizzazione di terminator decise di tagliare alcune scende apparentemente insignificanti dalla sceneggiatura originale ma così facendo ha creato un grosso buco nella trama del franchising che ancora oggi non trova spiegazioni il buco di trama in questione sembrerebbe riguardare il funzionamento dei terminator assassini cyborg dotati della sovrumana capacità di auto rigenerarsi infatti il modo in cui questi personaggi riescano a rigenerare ferite e lesioni rimane ancora un'incognita tuttavia questa stessa domanda era stata originariamente risolta in una scena cancellata dalla prima bozza di terminator che ricordiamo l'ha uscito nel lontano 1984 quindi quest'anno compirà ben 40 anni che c'è è uscito terminator è meglio che non ci penso perché sennò io mi sento male per il tempo che passa la scena incriminata è stata condivisa sul fansite hope of the future hope of the future e si colloca dopo la morte della falsa sarah connor in questa scena vediamo il t800 interpretato da arnos falsenegger allontanarsi dalla scena del crimine e mangiare una barretta di cioccolato milky worm in sole due morsi e senza rimuovere nemmeno l'involucro a sentirla così sembrerebbe soltanto un momento bizzarro e insignificante ai fini della trama ma in realtà è proprio questa breve sequenza che potrebbe colmare il buco di trama infatti i terminator non erano mai stati visti mangiare e forse è proprio questo quello di cui hanno bisogno per funzionare e mantenere vive le loro capacità autorigenerative ad ogni modo ha del tutto senso che questa scena sia stata rimossa da james cameron dal momento che vedere t800 fare uno spuntino dopo aver commesso un omicidio a sangue freddo sarebbe stato involontariamente ironico e divertente tuttavia il regista non poteva immaginare che questa piccola modifica si sarebbe poi rivelata alla base di un enorme buco di trama caratterizzante anche i film successivi inoltre sembra che si fosse anche un'altra scena legata al funzionamento dei t800 successivamente rimossa dalla sceneggiatura definitiva secondo le fonti in questa scena kyle reese interpretato da michael bien spiegherebbe a sara come i terminator non siano dotati di pelle umana e di organi interni ma che essendo adattamenti cibernetici da che devo girare la pagina richiedono meno sostentamento di quelli presenti in un essere umano bene c'era questo mistero sul t800 poi dopo se non ero quello che era interpretato da nel terminator due era alti mille di mille due boh non mi ricordo perché è passato tanto tempo poi comunque terminator non è che mi abbia mai fatto impazzire veniamo alla ultima notizia vediamo chi dobbiamo ringraziare ma penso sempre scienze notizie però ringraziamo anche focus che tanto non guasta il mistero partenopeo più famoso del mondo è senza dubbio l'ampolla conservata nell'uomo e che si dice contenga al sangue di san gennaro la particolarità di tale reliquia è che tre volte l'anno la sostanza da solida si trasforma in liquida un fenomeno considerato prodigioso dai fedeli succede il 16 dicembre il sabato precedente la prima domenica di maggio ricorrenza del trasferimento del corpo del santo da pozzuoli a napoli e il 19 settembre durante la festa del santo quest'anno 2022 c'era la possibilità ma ormai il tempo è passato la notizia di un anno e mezzo fa quindi c'era la possibilità di vederlo in streaming quindi penso che tutti gli anni il 19 settembre sia possibile vedere in streaming questa questo avvenimento che per napoli è un evento si tratta di un miracolo di un fenomeno inspiegabile o di un trucco chimico punto di domanda in un articolo apparso su nature alcuni studiosi del ccap diretti da luigi garlaschelli hanno mostrato di aver ottenuto una sostanza dal colore del sangue utilizzando molisite minerale presente sul vesuvio sale da cucina e carbonato di calcio l'origine del prodigio di san gennaio la chiesa non lo chiama miracolo sarebbe secondo loro dovuta alla proprietà tisotropiche della sostanza ricreata cioè la sua capacità di liquefarsi dallo stato solido se agitata il comportamento del sangue di san gennaio però è imprevedibile spiega l'abate vincenzo de gregorio che da 12 anni maneggia le ampolle durante le cerimonie a volte si liquefa subito all'uscita dalla cassaforte o addirittura dentro davanti a papà ratzinger ritengo di avere mosso a sufficienza le ampolle ma il sangue non si è sciolto ed era il papa l'enimma continua una spettrometria indica che all'interno delle ampolle c'è sangue ma il fisico francese michael mitov michel mitov michel di non michael michel mitov nel libro matière sensible ipotizza che le ampolle contengano spermaceti grasso ceroso estratto dalla testa dei capodogli e soluzione d'argilla materiali sensibili messo tra virgolette a manipolazioni e temperatura benché il cicap nel 1991 abbia suggerito in maniera sperimentale che la polla potrebbe contenere in realtà non sangue ma una sostanza tissotropica capace cioè di cambiare stato da solida a liquida e viceversa non c'è mai stata una verifica condotta sulla reliquia e per i fedeli il fenomeno resta inspiegabile furto una piccola curiosità storica la reliquia si trova nel duomo di napoli e consiste in una teca contenente due ampolle una riempita della misteriosa sostanza e l'altra semi vuota perché carlo terzo di borbone ne sottrasse il contenuto per portarlo in spagna bene visto come è strutturata questa notizia questa notizia di focus vi posso dire che questa notizia di focus quindi ringraziamo focus per questa notizio la che probabilmente i napoletani sanno benissimo conoscono benissimo è il loro santo di riferimento infatti c'è sempre la diatriba tra sant'ambrogio e san gennaro che c'era il buon federico salvatore che ci ha lasciato da da poco aspettate che vado a vedere federico salvatore ahimè aveva fatto quella sfida tra il milanese e il napoletano che fanno l'incidente no e poi dopo finiscono tutti e due in paradiso e siccome sono lì che litigano il napoletano con il milanese intervengono san gennaro e sant'ambrogio e fanno la gara di box nella canzone appunto che ha creato federico salvatore che infatti ci ha lasciato proprio il 19 aprile 2023 quindi quasi da poco più di un anno fa e purtroppo è morto anche giovanissimo a soli non aveva ancora compiuto 64 anni pensate va beh se volete c'è la cosa federico salvatore paradiso il titolo esatto non mi ricordo comunque se mettete paradiso penso che appaia sicuramente su youtube la cosa adesso per sicurezza ve lo cerco io così vi dico anche il titolo della canzone faceva dei testi divertenti con ads eccetera incidente in paradiso il titolo della della canzone se la trovate su tranquillamente su youtube eccetera 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 ragazzoli io vi saluto vi ringrazio oggi vi accontentate di due call news domani probabilmente quindi nella giornata nella notte tra sabato e domenica magari faremo ancora delle call news vedremo come sono messo come torno a casa eccetera eccetera però cerco sempre come vedete di farvi almeno due video al giorno ieri sera non ho fatto il video della pappa perché mi avevano riscaldato del bidine delle penne alla fiamma ma continuo a mettervi delle penne alla fiamma quindi non mi sembrava il caso vedremo questa sera il cuoco cosa di che cosa ci delizierà sempre che c'è la faccia perché veramente stavamo impazzendo sia io che lui oggi era lì gigi le pentole dall'altra parte gigi piatti della pizza gigi questo gigi quell'altro lui poverino ci aveva le comande poi abbiamo avuto anche dei simpaticissimi ragazzi a cui ho fatto la fotografia di gruppo perché sono arrivati dei ragazzi di stoccarda simpatici che hanno bevuto come i tedeschi bevono di solito alla fine hanno voluto la foto tutti assieme anche con il grande capo e quindi mi hanno chiesto gigi vieni a farci la foto foto bello è il bello ragazzi è il bello di lavorare in un ambiente bello io lo continuerò a dire faccio un lavoro che non glielo ho detto anche al mio capo gli ho detto guarda se non era per te questo lemming al meme ste però cerco di impegnarmi al meglio e accontentarmi in tutto quello che riesco e lo faccio per te e poi mi trovo bene perché comunque lì mi trovo bene ripeto meglio fare un lavoro che magari non ti piace in un ambiente in cui sei apprezzato e ti trovi bene che non fare il lavoro che ti piace in un ambiente tossico in cui ci sono non c'è collaborazione non c'è nulla ognuno che si fa i fatti suoi che se possono mettertelo in quel posto te lo mettono per l'avanzamento per questo per quell'altro sono magari anche invidiosi perché magari tu hai fatto una cosa bella o magari sono invidiosi perché sei amico del capo eccetera invece lì proprio c'è il senso di famiglia e si lavora in armonia con qualche vaffa che ogni tanto il cuoco mi tira e poi non so io me lo prendo metto in saccoccia chiedo o venia e vado avanti oggi mi sono anche fatto male perché il cuoco non mi deve chiedere di tagliare le cose perché io mi sono tagliato con la fetta avete presente quei cosini che servono per lo sbucciapatate ecco mi sono fatto male al mignolo che già è rovinato con lo sbucciapatate il che è tutto dire ma lei ragazzoli lasciamo perdere ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao